Buonasera da Michelino DJ Pienza Radio 67, TG Serale, giornata tranquilla oggi sotto il cielo piantino, niente degno di cronaca da TG. Secondo argomento, il norvegese è andato due giorni di campeggio estremo fra le briccole e le rimbecche con una tenda canadese, il norvegese con la canadese è tutta una ganzata, prendendo tempo e questa riflessione col pensionato e rifanno. Poi, che cosa è successo? Tappo alle due rotonde anche stasera perché si è fermato un venditore ambulante con i funghi e ha creato il caos, è una situazione incresciosa, tutte le famiglie sono uscite fuori, aveva dei funghi bellissimi, non so da dove venivano, porcini e cucchi, ovuli, una cosa bellissima. Meteo, domani fare molta attenzione in prossimità Palazzo Massaini-Sillore, sono previsti rovesce e sgrandinate incredibili, la protezione civile ha già allertato tutti, praticamente fate molta attenzione, uscite solo se c'è proprio lo strettamente necessario. Segno zodiacale, segno zodiacale stasera non lo so nemmeno io non mi ricordo quelli che ho fatto prima, comunque diciamo Scorpione, attenti al morso perché lo Scorpione è tremendo. Al solito vi saluto Amichelino DJ con Ci siamo conosciuti insieme, ciao alla prossima.